25 anni di grande solidità e competenza per questa ditta che è nata dai software motoristici e poi prodata subito nel mondo dei banchi prova potenza ed è conosciuta in tutto il mondo per la qualità dei suoi prodotti e per l'assistenza fornita al cliente dal proprio processo di vendita fino poi a tutta l'assistenza post vendita. Come ingegnere meccanico ho sempre inteso prima di tutti la tecnica il prodotto nella sua personalizzazione poi chiaramente nel tempo si è voluto anche commercialmente sempre di più fino a un'espansione importante come nello stato attuale. La soft engine nel futuro sarà in crescita abbiamo venduto in tutto il mondo ma anche fuori Europa ma vogliamo affermarci e stabilirci nei mercati esteri in maniera più forte. Per bilanciare la qualità dei nostri prodotti sicuramente affiancheremo un'immagine sempre più decisa e sofisticata. Questo è la soft engine del futuro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.